Due uomini con arma di candela di mano amenazano a una vittima e loro chiedono un telefono e hanno un sumo di 1.200 florini fuori di città. C'era un caso di attrazione, ma quando è arrivata in ora di guerra in area di Monte Verde, una vittima è stata traficando e ha chiesto sorprendere. Poi è attracadona. Una giocata di polizia, la vittima ha spiegato che aveva un sumo e arriva a menzionare e hanno un telefono, quella luce, ma anche da dire che due uomini non hanno chiesto e sa che non vanno con noi. E non poradona, molta informazione di attracadona onde ha seguito con un'investigazione del misendario, però, sim, il risultato di sia. E' vittima ha fatto un'denuncia oficial onde lo continua con un'investigazione.